Se mi chiedessero la definizione di top 10, la risposta sarebbe la partita di Matteo Berrettini di oggi, perché penso che sia il manifesto di quello che è secondo me il giocatore da top 10, il giocatore top 10, il giocatore forte, il top player. Matteo Berrettini è questo, e l'ho dimostrato, l'ho dimostrato quest'oggi, perché il grande giocatore sì, arriva ai grandi traguardi, il grande giocatore raggiunge le finali slam, le finali mille, i titoli come ha raggiunto Matteo Berrettini, raggiunge i grandi risultati nei grandi tornei, Ma il grande giocatore, nelle giornate negative, nelle giornate no, si mette lì, umilmente, con il back, tiene, cerca di avere il profilo basso, cerca di avere l'atteggiamento più umile possibile, e cerca di dare il 110% per quello che è il suo potenziale in quel giorno lì. E Matteo Berrettini oggi ne aveva veramente molto poco, contro un avversario attrezzato sull'erba, un avversario che gli ha sempre dato noia, che lo ha battuto a Dubai, un avversario che l'aveva battuto al primo turno degli US Open nel 2018, Un avversario che gli ha sempre un po' provocato dei fastidi, eppure ragazzi, in qualche modo lui è riuscito ad avere la meglio, perché nel secondo set oggettivamente la partita sembrava quasi chiusa, Quando ci sono state quelle due palle break per il giocatore statunitense, in un momento cardine, su tre pari del secondo set, ci sono state quelle occasioni in favore di... Di Cudla che potevano far pendere la bilancia dalla parte dell'americano, perché veramente insomma lì Cudla sarebbe andato 6-3, 4-3 servizio, E sarebbe stato difficilissimo per Berrettini riuscire ad invertire la tendenza, invece poi ha annullato quelle due palle break, probabilmente giocando i migliori punti fino a quel momento, Perché era un Berrettini che era in evidente difficoltà, praticamente sin dall'inizio della partita, nonostante poi nel primo set in qualche modo era arrivato al tre pari, Poi è arrivato il break decisivo, che ha deciso il primo set, e nel secondo continuava ad essere in difficoltà, specie in risposta, Eppure lì con il servizio, con la forza di... della disperazione, o comunque la forza mentale del grande giocatore che rimane sempre attaccato, Ha riuscito a risalire in quel game lì, e aveva avuto anche delle chance per chiuderlo il secondo set, e lì è stato bravo Cudla, Perché Cudla è un giocatore che sull'erba è molto bravo, l'anno scorso a Wimbledon ha avuto un set point per portare al quarto set Novak Djokovic, Quest'anno, due settimane fa, ha battuto Andy Murray in un challenger britannico, sull'erba in preparazione a Wimbledon, Quindi è un giocatore che sull'erba assolutamente può dire la sua, e anche oggi ha giocato la partita che doveva giocare, Poi chiaramente ci sono stati degli errori da parte sua nel terzo, soprattutto quando ha subito il break, Però anche lì Berrettini è stato straordinario, perché si vedeva, perché nonostante si fosse scrollato un po' di dosso, di tensione, Anche di preoccupazione nel secondo set, dopo averlo vinto, c'è stato anche il medical time out, secondo me più precauzionale che altro, Nel, alla fine del, del secondo, lui si vedeva, si cercava di guardarsi la mano sin dal primo set, Non credo poi ci sia un problema effettivo, voglio sperare, comunque oggi c'era qualcosa che, Che non tranquillizzava Berrettini, semplicemente era una giornata proprio no, E ha dato anche dei segni di nervosismo, sempre a parlare con il suo angolo, Anche un po' negativo con se stessa a un certo punto, però non ha mai staccato la spina, Non ha mai staccato la testa dalla partita, Quello è il segnale più importante che doveva dare Berrettini, E che un top ten può dare in una partita, Perché appunto anche nel terzo aveva preso il break di vantaggio, Poi viene subito controbreccato, va sotto nel punteggio, Nonostante avesse avuto la palla brecca per tornare 4-3, E poi riesce a controbreccare, A breccare sul 5-4, A servire per il match, aveva avuto il match point, Poi ancora Kudla, Gli era tornato addosso, ancora Kudla, Gli aveva rimesso il bastone fra le ruote, Con quella palla brecca, Con quell'errore di Berrettini che aveva portato alla palla brecca, La palla del controbrecca, Veramente non riusciva a staccarsi di dosso il suo avversario, E non riusciva a trovare il suo gioco neanche quando era avanti, Era proprio una giornata in cui, Qualsiasi arma cercava di togliere dal suo arsenale, Non riusciva assolutamente a rendere al meglio, Ed è stato veramente stupendo nel vincerla al terzo, Nel rimontare secondo me questo match, Perché lo fanno i grandi giocatori, E adesso se sta bene io continuerei questo torneo, Secondo me se si è accusato un po' di stanchezza, Se c'è qualche piccolo problemino fisico, Secondo me tanto vale meglio dare forfait al Queens, E cercare di arrivare bene a Wimbledon, Perché anche se non dà punti, Berrettini è fra i favoriti, O comunque uno che può arrivare fino in fondo, Può arrivare molto avanti, Quindi magari meglio sacrificare qualche punto, Meglio sacrificare un possibile titolo al Queens, Per giocare al meglio a Wimbledon, Perché se sta bene quest'estate, Berrettini può recuperare anche i punti per andare a Torino, Può recuperare la posizione che gli spetta nel ranking, Quindi veramente speriamo che possa riuscire a trovare una sua continuità, Anche dal punto di vista fisico quest'estate, E che possa riuscire a eventualmente tornare a Torino, Secondo me se sta bene quest'estate, Berrettini ci può tornare a Torino, Adesso c'è l'ostacolo Tommy Paul, Che lo aveva fermato ad Acapulco, O meglio, Il suo fisico diciamo a fermarlo, In Messico, In quell'occasione, Si ritirò Berrettini dopo aver vinto un bel primo set, Era sotto 5 a 1 nel secondo, Insomma, Domani sarà una sfida non semplice, Però Berrettini, Io penso che dopo la giornata negativa di oggi, Domani possa giocare sicuramente meglio, Perché era più impante nel match contro Evans, Io non credo neanche che abbia accusato la stanchezza, Semplicemente con una giornata di quelle in cui non ti riesce niente, E comunque mi in mente si è messo lì, Con l'atteggiamento giusto, Senza strafare, Si è messo lì col back, Si è messo a scambiare, Con il servizio rimaneva attaccato, Veramente è un campione questo, È un campione, Perché anche nell'umiltà e nei momenti difficili si vedono i campioni, E appunto, Se dovessi dare la definizione di un top 10, Matteo Berrettini oggi direi che l'ha data, Una dimostrazione, In maniera piuttosto netta, Fatemi sapere nei commenti, Che cosa ne pensate, Una valanga di un piacere il video, Condividete questo video, Iscrivetevi al canale, Se ancora non lo avete fatto, E a questo punto, Arrivederci, Tiagacene al prossimo video, Grazie a tutti,